Ecco, questa è la scuola di perfezionamento, particolarmente la scuola di perfezionamento della fondazione Stauffer di Cremona. Qui i ragazzi accedono dopo un esame di selezione e dopo aver fatto i sette anni di conservatorio. Sì, perché questi sette anni non sono sufficienti per coprire il bagaglio tecnico e musicale che richiede la letteratura del contrabbasso. Ecco, questo è il corso di perfezionamento anche per ciò che concerne le lezioni singole. Nella fattispecie adesso hanno suonato degli esercizi per migliorare il loro rendimento per ciò che concerne l'intonazione di gruppo. Ma adesso ascolteremo invece una lezione personalizzata ad uno dei bravi giovani che frequentano questo corso. Ecco, io farei un poco più di crescendo più espressivo a questa parte qua. E poi lo prenderei più espressivo, più dolce. Ecco, farei questo qui. Ecco, dove abbiamo detto prima? Ecco, fai l'inizio ancora un attimo. Tiremo qui. Bravo. Un piccolo accento espressivo. Crescendo a poco a poco. Più espressivo. Ecco, un bel crescendo. Bravo. Bravo. Senti, ma mi faresti un po' l'inizio della cadenza, del primo evento? Ecco, un pochino più virtuosistico. Ecco, ecco, questo qui un pochino tu devi conquistare il pubblico. Hai finito l'esposizione di tutto il concetto? E ancora una volta, un pochino più. Ecco, qui questa è una lezione di perfezionamento e di interpretazione musicale. Claudio ha già fatto vari concorsi, ha vinto vari concorsi. E ormai è quasi un concertista. Direi che lo è, senz'altro. Si sta preparando per il concerto finale dei corsi Stauffer qui a Cremona. Ecco, adesso ascolteremo un altro bravissimo, giovane, che suonerà sempre un pezzo di Bottesini. Bene, Giappietro, scusa, più espressivo questa, è un po' troppo cruda questa paletta. Ma è in concerto che è possibile apprezzare al meglio le grandi qualità timbriche e musicali dello strumento. Ecco dunque il maestro Franco Petracchi in un'esibizione solistica di avvincente virtuosissimo. La tarantella di Giovanni Bottesini. La tarantella di Giovanni Botti. 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 La tarantella di Giovanni Botti.